Questo è il nostro intendimento, ricordo che abbiamo già preso i primi passi per creare le strutture per fare una spending review, sarà la spending review il meccanismo attraverso il quale saranno individuati sia i fabbisogni standard, sia i costi standard, soprattutto nel campo della sanità e io credo che gli spazi per economie in questo campo ce ne sono sicuramente.